Un posto al sole, spoiler dal 24 all'aprile, Franco sente Angela parlare male di lui. Le puntate di Un posto al sole in onda da 24 al 28 aprile su Rai 3 si preannunciano ricche di colpi di scena. Tra Angela e Franco la crisi si farà più profonda anche a causa di una conversazione che Boschi ascolterà per caso. Rosa, invece, sarà sempre più arrabbiata per il rifiuto di Damiano e finirà per prendersela con Viola. Clara si allontanerà da Alberto e potrà contare sull'aiuto di Giulia, mentre Paladini sarà furioso con tutti. I riflettori saranno puntati anche su Roberto che sarà sempre più vicino a Lara e al piccolo Tommaso dopo aver scoperto che il bambino non sta bene. Presto, tuttavia, emergerà un terribile segreto che spiegherà le ragioni dei malori del piccolo. Le trame di Un posto al sole dal 24 al 28 aprile raccontano che Roberto correrà ancora una volta da Lara e Tommaso. Perché il bambino non starà bene. I problemi di salute del piccolo faranno preoccupare molto l'imprenditore che si legherà sempre di più a lui. Trascurando Marina. La donna non riuscirà a tollerare questa situazione, ma ben presto le cose potrebbero cambiare. Una terribile verità sarà pronta ad emergere e potrebbe spiegare anche i malesseri di Tommaso. Sarà proprio Lara la causa dei problemi di salute del bambino? Non si esclude, visto che nella puntata andata in onda venerdì 21 aprile la donna è stata liquidata da Roberto poche ore prima che Tommaso si sentisse male. Gli episodi di Un posto al sole dal 24 al 28 aprile tratteranno anche della delicata situazione tra Franco e Angela. I genitori di Bianca vivranno una profonda crisi e questa volta sembrerà più seria del previsto. Boschi avrà seri problemi in ambito lavorativo e successivamente si troverà anche coinvolto in una discussione tra Damiano ed Edoardo. Sabbi esederà anche un pugno a Franco che, probabilmente, al suo ritorno a casa dovrà affrontare anche Angela. Che da sempre rimproverà al marito di farsi coinvolgere in situazioni pericolose. La figlia di Giulia, inoltre, non riuscirà a perdonare a suo marito l'indifferenza con cui ha affrontato il momento in cui credeva di essere incinta. A peggiorare la situazione tra i due coniugi, inoltre, ci sarà una confidenza di Angela a Viola e che non piacerà affatto a Franco che ascolterà di nascosto sua moglie parlare male di lui. Clara proverà a restare lontano da Alberto appoggiandosi a Giulia. L'avvocato Paladini sarà sempre più irritato da questa situazione e se sfogherà la sua rabbia con tutti. L'uomo andrà a fare una sfuriata al vulcano che darà a Silvia modo di rivalutare anche la sua opinione nei confronti di Diego e Nunzio. Successivamente, Alberto avrà una dura discussione anche con Nico e rischierà di compromettere tutto quello che a fatica aveva riconquistato. Il periodo non sarà dei migliori neanche per Rosa che sarà piena di rabbia nei confronti di Damiano e finirà per sfogare la sua frustrazione su Viola. Quest'ultima, dopo essere stata attaccata dalla madre di Manuel avrà un momento di imbarazzo con Raffaele.